Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Avvocato Ciaccio, lei ha deciso di mettere da parte la toga e tra qualche settimana non farà più l'avvocato ma farà il cancelliere avendo superato il concorso. Anzitutto, come è maturata la decisione di mettere da parte la toga dopo aver fatto gli studi universitari e anche essere diventato avvocato? Sì, la decisione di cambiare vita è pervenuta dopo diversi anni di professione. Io sono iscritto all'albo dal 2006, quindi già sono parecchi anni che svolgo questa professione con piacere, con orgoglio. Incontrando una marea di persone, interloquendo una marea di persone e anche con risultati apprezzabili. Però, letto il bando del concorso, ho valutato se era opportuno per la mia famiglia, per la mia persona, per la mia vita complessiva fare un cambiamento, dare una svolta alle mie giornate perché la professione forense è stimolante, culturalmente e mentalmente bellissima. Ogni giorno si deve studiare, ogni giorno si deve affrontare questioni nuove, ogni giorno si incontrano persone che portano un dolore, una difficoltà, una sofferenza interiore. Però è anche impegnativa per il singolo avvocato dal punto di vista del tempo che si deve impiegare all'attività stessa. Non basta andare in udienza, non basta studiare le cause lungamente, ogni caso spesso è un guide specifico, ma è necessario poi parlare con le persone, in medesimarsi e accompagnarle in questo percorso, rispondere alle loro chiamate, alle loro urgenze e alle loro sofferenze quotidiane. Quindi, essendo l'attività lavorativa, percependo questa attività lavorativa come stressante, come troppo veloce, come non più convacente con l'esigenza della mia famiglia. Io sono felicemente sposato e avevo anche tre figli, ho pensato che cambiare attività lavorativa e diventare cancelliere mi consentisse di avere una giornata lavorativa più cadenzata, meno stressante e con orari più stretti. Lei ha fatto riferimento al 2006, nel 2006 gli avvocati in Italia erano 87.000, adesso sono 250.000. Ecco, questa crescita notevole, anche un po' diciamo della concorrenza, tra virgolette, ha pure determinato un po' la sua scelta, cioè è più difficile adesso imporsi nella professione, trovare gli spazi giusti? Sicuramente sì. Oggi i numeri determinano una concorrenza spietata. Purtroppo i professionisti non vengono più valutati per la loro competenza e per la capacità di comprendere i fatti e dargli una qualificazione giuridica. Spesso sì, i lavori vengono dati a un professionista con una sorta di gara a ribasso. Le persone fanno un giro senza approfondire più di tanto, affidano l'incarico al professionista che offre il suo lavoro al prezzo più basso. Questo chiaramente deprime l'attività lavorativa, chiaramente fa diminuire la qualità dell'attività svolta, perché è chiaro che un compenso irrisorio non consente al professionista di dedicare il tempo necessario per istruire e difendere i giusti diritti dei cittadini innanzi ai giudici. Poi chiaramente questo è accompagnato, ci sono altri fattori. Lo stesso Parlamento, lo stesso legislatore nel corso degli anni di questi ultimi 15 anni ha espresso un certo sfavore, un certo opposizione nei confronti dell'avvocatura. Uno dei provvedenti spot del Parlamento che denota questo sfavore nei confronti dell'avvocatura a mio parere è stata la diminuzione dei giorni di sospensione feriale. Il nostro periodo di riposo era, fino a alcuni anni fa, di 45 giorni, anche se nella realtà poi ne facevamo una ventina. Oggi il legislatore ci dà solo 30 giorni di riposo, come se 15 giorni di riposo in meno potessero accelerare la macchina della giustizia e la velocità dei processi, cosa che effettivamente è illogica e non reale. Oggi il vero male, a mio parere, della giustizia è la penuria di magistrati e la penuria del personale di cancelleria. Quando il giudice non è nelle condizioni di poter decidere una causa in rinvia di un anno, di sei mesi o di sette mesi, questo non avviene per colpa di una cattiva volontà, di un progetto criminoso dell'avvocato, ma avviene perché effettivamente il giudice e le cancellerie non possono adempiere a tutti i passaggi del fascicolo ed è necessario questo rinvio. Quindi a mio parere io ritengo che solamente facendo degli opportuni investimenti, e parliamo di personale, di strumentazione tecnologica e di assunzione di nuovi magistrati, solo in questo modo si potranno velocizzare i processi e si potranno dare le giuste risposte ai cittadini che attendono da tempo l'esito di un giudizio. Un'ultima domanda, avvocato. Sappiamo che questa sua scelta è tra gli avvocati del territorio, l'hanno fatta anche altri, pensiamo a Brunetto, a Carlino, a Grisafi. Lei come pensa che sarà il suo primo giorno trovarsi la prima volta dall'altra parte e vedere magari i colleghi con i quali lei ha lavorato fino a qualche settimana prima indossare ancora la toga? Allora, sicuramente ci sarà un po' di emozione, chiaramente, però non mancherà uno spirito collaborativo. I colleghi nel mio cuore rimarranno tali. Se io potrò velocizzare la fotocopia, se potrò velocizzare la posizione di un visto, se potrò essere collaborativo e se potrò aiutarli in qualsiasi adempimento non farò un passo indietro, anzi, sarò sempre pronto. Mi sentirò sempre parte della categoria forense e cercherò di affrontare questa nuova professione M5 iniziale nella stessa maniera. Io nel corso degli anni ho visto tante persone anziane vagare nei corridoi del tribunale alla ricerca dell'ufficio, alla ricerca del documento che dovevano riempire per poter chiedere la protezione del diritto nei loro confronti. Probabilmente farò la stessa cosa. Prima, sin oggi l'ho fatto come avvocato, probabilmente domani lo farò come cancelliere esperto, come dipendente del Ministero della Giustizia.